Buongiorno e buon mercoledì signori miei, sperando che sia tale di bala, sempre più in orbita inter, le probabilità che veste il nero azzurro si fanno sempre più concrete, almeno leggendo, ascoltando, vedendo quello che riporta la gazzetta dello sport e non solo, tante news, tante novità, le ricondivido insieme a voi, le ricondivido insieme a voi e poi aggiungo il mio di pensiero, detto questo prima partiamo con il solito like perché tanto lì ci sei e aperto il video a sto punto lasci anche il like giusto così per fare 33, perché poi 33 si dice 31, iscrivetevi se volete seguire anche i prossimi contenuti e di queste pillole di calcio mercato forse ne porterò altre in futuro anche perché lo sapete a me piace soprattutto il calcio giocato però ogni tanto no, esciamo anche un po' dal seminato, soprattutto quando magari c'è una notizia così importante, il 10 della Juve che potrebbe accasarsi all'Inter, non mi sembra roba da tutti i giorni, per cui ecco ne parliamo, poi sapete per il giocatore una certa affinità ce l'ho anche per cui parlarne, mi viene anche facile, link in descrizione per scaricare OneFootball ragazzi, perché dove non arriva il buon vecchio caro zio Neschio, ne ho dette troppo, può arrivare OneFootball app che gratuitamente, ripeto gratuitamente, vi permette lì di rimanere aggiornati, H24 sulle varie news, novità, un aggregatore di notizie che non vi fa perdere nulla, nulla di quello che è il panorama calcistico, per cui il link è in descrizione o QR code per rimanere lì, aggiornati adesso, 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 fatelo, no adesso perché magari dovete seguire il video ma poi più in là, ragazzi io vi do il buongiorno ma questi video li faccio quasi alle 2 di notte, ecco perché andiamo lì di getto, snoccioliamo la novità e la fonte e poi via, via, vi dico cuore aperto, quello che penso, quindi seguitelo tutto il video, prima partiamo dal buon Pedulla, cosa dice Alfreduccio, Dybala non aspetta l'Inter o un altro club, punto, ma per il momento, lo grido a gran voce come ha scritto lui, per il momento solo l'Inter è diverso, oggi ha una preferenza e basta, il tempo che passa lo può spingere verso quella direzione, questo è il tweet di Alfredo Pedulla, cosa riporta invece Daniele Mari, che va a parafrasare, ce l'ho fatta, sì, Neschio, sufficienza piena, forse no, Dybala ha ormai, comunque parafrasa la gazzetta, Dybala ha ormai scelto l'Inter, contatto decisivo la scorsa settimana, pronto, contratto lungo da 6 milioni più corposi bonus, Dybala si è sentito desiderato, tutto è apparecchiato per il trasferimento, Inter e Dybala sono ormai promessi sposi. Vuoi andare a vedere che poi una delle due parti, il maschio o la femmina, no, quella vestito di bianco o quello vestito di nero, come si veste l'uomo, vuoi vedere che una delle due parti poi non si presenta lì, dove ci sarebbe anche, vabbè, no, non interessa, andiamo sul concreto e ritorniamo sempre a quanto, poi condivide tramite il profilo Instagram, oppure trovate proprio sulla testata, su gazzetta.it, cosa ci dice la gazzetta, cosa ci dice Dybala vuole l'Inter, ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa. Che l'Inter volesse Dybala era risaputo, ma ora il feeling è reciproco, anche la Yoja ha scelto e ha scelto per il nerazzurro. L'ha fatto come si fa al check-in, concedendo l'imbarco prioritario al club di via della liberazione, è il frutto di un altro contatto tra il club di Steven Zhang e l'entourage del giocatore. Paolo vuole rimanere in Italia e soprattutto prendersi la rivincita sulla Juve, che non lo ha confermato. Se l'affare andrà in porto, Dybala andrebbe a guadagnare quello che nella rosa di Inzaghi oggi guadagnano i top player. Leggi, 6 milioni dell'autare di Brozovic, oltre a corposi. Bonus, l'accordo avrà scadenza lunga, i ragionamenti sono intorno a un quadriennale. A un ordi con, informiamo anche che la notizia completa la potete trovare su gazzetta.it. Va bene? Giusto per farci anche due resate, tre commenti al volo sotto il profilo Instagram della gazzetta. C'è chi dice, vieni a papà, vieni. C'è chi dice, levategli sta maglia, santo X. Censuriamoci. Non ci credo fino a quando non lo vedo. E questo di Carmelo, secondo me, è il commento più lampante. Ho detto tre, basta, mi taccio. Andiamo a dire la mia. Ovviamente sotto nei commenti mi aspetto anche tantissimi commenti, se possibili. Cacifici, anche perché questo è un nome che comunque secondo me scalda, 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 scalda. Lo so, il rendimento quest'anno, alti e bassi, ha giocato, non ha giocato. Ma Paolo Di Bala è un giocatore di calcio che ha classe. E i giocatori di classe, voi o non voi, sono comunque apprezzati. Quindi, almeno io sono uno di quelli e lo sapete già da tanto, da lungo, da tanto, da lungo, da tanto tempo. Da tanto, da lungo, vabbè. Allora, cosa dire? Sicuramente anche l'accompagnola Oriana sta facendo un po' di telenovela. L'abbiamo sentito quando ha parlato anche, no, della padre che sta cercando di portarlo a River, no, per buttarla anche un po' in cacciara. E lui sta lì a ridere, a sonnecchiare. Ma sappiamo bene che il giocatore vuole rimanere in Europa e molto probabilmente la preferenza è appunto l'Italia. E ad oggi delle italiane, quella che sembrerebbe più avanti è l'Inter. Per, sì, no, fare uno sgarbo alla Juve, andare quindi proprio all'Inter, io a queste cose credo anche poco. Quello che credo invece è che Marotta, Marotta potrebbe essere, potrebbe essere la persona che può fare un po' la differenza. Come in passato era stato per Conte, adesso potrebbe essere per lui, no? Marotta è una sorta di garanzia e se già lo conosce, se già c'è avuto a che fare, è più facile concedersi di nuovo. E quindi il rapporto tra le due parti, tra i due interessati, secondo me, può fare senza ombre di dubbio la differenza. Detto questo, e quindi della fattibilità o meno, ne passerà il tempo e vedremo quello che accadrà. Lo sapete, io non sono uno di quelli che dico, sì, arriva, no, non arriva. Allora, vediamo, inizio a crederci, sappiatelo, ecco, inizio a crederci per davvero, inizio a crederci che il giocatore, ci siano delle possibilità concrete. Ecco, è stato sempre, no, è stato sempre detto tante robe, adesso inizio a credere che la possibilità che lui, Vesta di Nerazzurro, ci sia, eh, ci sia, c'è, c'è sicuramente, sicuramente mai come adesso, mai come adesso. Detto questo, ecco, sarò molto chiaro, eh, in uscita non deve andare via Lautaro, eh, perché molti iniziano a parlare, se arriva lui forse, eh, allora no, lo dico già adesso, se parte uno come Lautaro, un giovane, eh, uno che sulla carta d'identità ha tre, quattro anni meno di, no, anche di più forse, no, tre, quattro, sì, Lautaro. Allora, andiamo subito a dire adesso, così, facciamo i conticini, classe 97, 24 anni, Di Bala, classe 90, eh, 93, 28 anni, sì, c'ero, 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 come, come no, come al solito, c'ero, e, e lo dico subito, non, non sarebbe di certo per me un'app, un'appgrade, anche se poi parliamo di giocatori con qualità differente, però, nonostante la corrente alternata di Lautaro, che nella stagione qualche mese se lo prende, però è un giocatore dal punto di vista fisico, sai che c'è sempre, e quindi non lo so, già avendo al momento, perlomeno al momento, gente come Dzeko, Sanchez, aggiungere anche Di Bala, e, eh, certamente, e togliendo, ripeto, Lautaro, per me non sarebbe un'appgrade, che sia chiaro, quindi, Lautaro non deve essere, non deve essere protagonista, cioè, non deve, non devono esserci conseguenze in questo senso, e mi so spiegato, detto ciò, per il resto, io di Bala lo vedo all'Inter, e poi, vado subito a smontare un altro, eh, un altro commento che spesso viene fuori, ed è un commento che non mi vedrà mai d'accordo, e, e poi chiudo, perché non vi voglio stancare, nauseare, e, e infastidire, Ma Di Bala dove lo metti all'Inter ad oggi? Io, forse di questo non ce ne avrò parlato, ma, non mi stancherò mai di farlo, come dove metti un giocatore come Di Bala? Come dove metti un giocatore come Di Bala? Di Bala, eh, messo al fianco, per esempio, di un giocatore come Dzeko, che è un punto di riferimento, lui è una pedina perfetta, perché può girarli attorno, o uno che non ne dà, invece, di riferimento, può partire da destra, per accentrarsi, e avere una buona, un giocatore come Di Bala può solo agevolarli, il feeling con Lautaro, eh, parlano la stessa lingua, ed è vero, in tutti i sensi, per cui, io dico che un giocatore come Di Bala può fare, è comodo, non ci siamo fatti tutti questi problemi, quando abbiamo speso 35 milioni per Correa, non stare lì a fare lo schizzinoso per un giocatore come Di Bala, ecco, non mi permetterei neanche, non mi permetterei neanche, quindi Di Bala è uno di quelli che salta l'uomo, è uno di quelli che ha la possibilità da lontano, con il suo sinistro, quindi ha anche il tiro da fuori, è un mancino delicato, sa dialogare, vede calcio, e ad oggi, nello scacchiere di Inzaghi, non vedo come possa essere involuto, quindi, francamente, non credo ci sia una discussione in questo senso, l'unico, ripeto, l'unico handicap, l'unico punto interrogativo, per me resta sempre la condizione fisica, perché ultimamente, nell'ultima stagione, lì, lì, rimane un rebus, ecco, motivo per il quale il discorso che ho fatto prima per me è centrale, ecco, per me è senza ombra di dubbio centrale, detto ciò, se viene all'Inter io lo accoglierò, non a braccia aperte, a torso nudo, a torso nudo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, e se volete iscrivetevi al canale, detto ciò, un grande abbraccio, non ho fatto le due, e l'una è 59, quindi, buonanotte, buongiorno, buongiorno e che sia davvero un buongiorno per voi, lascia il like, se sei arrivato alle 1 minuto e 49, 50, devi lasciar il like, e beh, è doppio, un abbraccio! Ciao!